Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero tutto bene. Oggi sono qui con il mio solito obiettivo, quello per mostrarvi le cose un pochino più ravvicinate. E infatti oggi andremo a parlare di gioielli. Sono contentissima perché mi è arrivato un pacchetto dalla casetta di Marzapane Bijoux. Sapete che ho collaborato con loro diverse volte e con i loro gioielli mi sono trovata sempre benissimo. È un'azienda italiana, sono tre sorelle che saluto e mando un bacione enorme e creano tantissimi, tantissimi gioielli. Mi hanno contattata qualche giorno fa chiedendomi appunto se avessi voluto, avessi avuto voglia, avessi avuto piacere di provare altri loro gioielli ma soprattutto volevano mandarmi una box dedicata a San Valentino. Visto che comunque ci stiamo per avvicinare a San Valentino, hanno creato queste box personalizzate appunto e potete personalizzarle con i vostri nomi, quindi il vostro e quello del vostro fidanzato oppure vostro, della vostra sorella eccetera. Quindi sono stata molto contenta di ricevere questa box di San Valentino e non vedo l'ora assolutamente di farvi vedere il suo contenuto perché non vedo l'ora assolutamente di iniziare ad utilizzarlo, iniziare ad ammettere. Quindi vi faccio vedere la box, intanto vi dico che ha un profumo pazzesco. Tutte le volte loro spruzzano sui pacchetti un profumo, il profumo questa volta mi piace un sacco, è veramente, non lo so, è buonissimo. Non saprei neanche dirvi effettivamente, però è veramente, veramente buonissimo. Quando mi è arrivato il pacco e non ho girato purtroppo il video lo stesso giorno, mi è arrivato venerdì, non sono riuscita a girare il video quel giorno lì, però che cosa ho fatto? Ho lasciato il pacchetto praticamente in questo modo sul tavolo. Non avete idea di quanto abbia profumato la stanza quel pacchetto, cioè fantastico. Quindi io direi che possiamo iniziare subito a scartare perché vi voglio assolutamente far vedere questa fantastica box. Allora, è arrivata praticamente tutta fasciata con questa carta velina rossa, ok? E un nastrino bianco che ha appunto attaccato, aspettate che vi volevo far vedere, dei ciondolini, eccoli qua, due ciondolini. Quindi adesso andiamo ad aprire il pacchetto e vediamo insieme che cosa mi hanno inviato. Allora, il nastrino, andiamo ad aprire la carta. Io strappo, eh. Ok. Mamma mia, che profumo, assurdo, veramente. Allora, sulla scatolina abbiamo un bigliettino con la scritta You and Me, bellissimo, scritto a mano. Guardate che carino, molto molto bello. Le loro scatoline, lo sapete, che sono sempre fatte allo stesso modo, quindi tutte rosa. L'interno è fatto così. Allora, qui abbiamo, aspettate che adesso apriamo con calma, così vi faccio vedere. Allora, abbiamo intanto una loro cartolina, di queste qui, con le loro varie collezioni, con, appunto, vedete, le loro modelle. Ecco qui. Il pacchettino ha questa, il loro marchio, appunto, con questa carta venina rossa, appunto, per ricordare il giorno di San Valentino, quindi rosso amore. Noi apriamo. Mamma mia, che profumo, è buonissimo. Allora, e abbiamo tre casettine. Sapete che sono bellissimi i loro pack, perché creano anche le scatoline per contenere i loro gioielli, quindi ognuna poi, tra l'altro, personalizzata, quindi mi piace un sacco. Allora, abbiamo questa scatolina, queste due scatoline qui, e poi abbiamo una scatolina a parte, che è questa. Bellissima. Mi piacciono un sacco. Sono veramente bellissime. e poi, al loro interno, e poi, all'interno della scatola, troviamo, oltre questi pezzettini di carta rossi, troviamo dei cuoricini, guardate un po', troviamo questi fantastici cuori, eccoli qui, ci sono questi coriandoli a forma di cuoricino, e troviamo anche dei cioccolatini a forma di cuoricino e delle caramelle, sempre con la carta rossa. Ma è una cosa fighissima questa. Sì, ce ne sono un sacco di cioccolatini all'interno. Eccoli qua. Fighissima, veramente. Quindi adesso togliamo la scatola e vediamo che cosa mi hanno inviato. Allora, intanto, vediamo la scatolina singola, che è a parte. Allora, mi hanno inviato un paio di orecchini, fighissimi, tra l'altro. Un paio di orecchini con le iniziali. Ah, da un lato abbiamo la mia iniziale e quella di Orazio. Ma che cosa figa. Allora, gli orecchini sono questi, sono due cerchietti piccolissimi, molto carini. Vedete, qua abbiamo la A, da un lato, e dall'altro lato abbiamo la lettera O. Eccola qua. Ma che belli questi orecchini, io non vedo l'ora di mettermeli, e adesso li andrò sicuramente ad indossare, così vediamo insieme come sono. Ok, allora, uno l'ho messo, adesso mettiamo l'altro. Eccoli qua. Allora, da un lato abbiamo la O, e dall'altro abbiamo la lettera A. Aspettate, eh. E dall'altro abbiamo la A. Sono bellissimi, sono piccolini e non danno assolutamente noia. Quindi questi qua adesso li teniamo su, mi piacciono un sacco. Wow! Sì, mi piacciono veramente moltissimo. E poi abbiamo questa, che non vedo l'ora di aprire. Allora, abbiamo due scatoline. Mi aveva accennato che, ehm... Allora, di questi non ne sapevo nulla. In realtà questi io so esattamente che cosa c'è dentro, perché mi avevano accennato appunto il contenuto di questa box. E, ehm... All'interno di queste due scatoline ci sono due bracciali. Uno per me e uno per Orazio. Il mio è con l'iniziale di Orazio e il suo è con la mia iniziale. Quindi adesso li vediamo insieme. Vediamo, ehm... Come sono questi bracciali. Ovviamente arrivano sempre tutti nei sacchettini di organza all'interno. Allora, vi faccio vedere prima quello maschile. Allora, intanto vi volevo rassicurare che questi articoli, tutta la loro, i loro gioielli non anneriscono. Sono sempre uguali. Io li indosso spesso e non cambiano assolutamente mai di colore, perché è acciaio inossidabile. Quindi comunque non danno assolutamente problemi. Quindi, fantastico, non si anneriscono e rimangono sempre dello stesso colore. Allora, questo qui è il bracciale maschile di Orazio con il ciondolo. Allora, abbiamo questa catena qui con questa maglia, praticamente. La maglia è questa qui, sottile, con il ciondolino con la mia iniziale, che è questo. Ok. Quindi questo qua è quello maschile. Mentre il femminile è questo. Praticamente, che bello questo, questo lo voglio mettere insieme ai miei. Mentre questo qui è quello femminile. Aspettate che ve lo apro un po' di più. Ok. Il mio è fatto con le palline, fatti così con i pallini, con ovviamente il ciondolino con l'iniziale O. Vedete? Eccoli qua. Insieme. Sono bellissimi. Sono veramente bellissimi. Uno più bello dell'altro. Mi piacciono un sacco. Quindi, uno è il suo e l'altro il mio. Sono contentissima di averli ricevuti, perché è un regalo bellissimo, a mio avviso. E soprattutto è un regalo bello, se voleste fare un regalo al fidanzato o alla vostra fidanzata, se c'è qualche maschietto che ci segue. Praticamente è bellissimo il fatto che abbiate un bracciale uguale, con le maglie differenti ovviamente, perché non potevano creare un bracciale con le palline anche da uomo. Però questo qui con la maglia differente è bello da regalare al proprio fidanzato e da avere il bracciale uguale con lo stesso ciondolo. Quindi questo è fantastico. Allora, se vi fa piacere acquistare queste box o comunque curiosare il loro sito, acquistare dei loro gioielli sul loro sito, con il codice alle 20 avrete sempre il 20% di sconto. Quindi con quel codicino lì avrete sempre il 20% di sconto su tutto il sito, su tutto il catalogo, ad esclusione ovviamente delle cose già in promo, che quindi appunto hanno già una loro promozione, quindi non si può sovrapporre con il mio codice. Però con quel codicino lì avrete sempre il 20%, quindi per fare un pensierino, un regalino, eccetera, appunto anche per San Valentino potete utilizzare questo codicino e avrete diritto al 20%. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Io saluto ancora tantissimo Anna Maria, che è la ragazza con cui mi scrivo sempre, e quindi ringrazio tantissimo tutto lo staff di La Casetta di Marzapane Bijou, perché sono sempre veramente super super carini e gentili, veramente le ragazze sono splendide. Quindi niente ragazze, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!